ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video piccolo annuncio visto che in genere nessuno arriva alla fine del video io vi invito ad iscrivervi al canale se non lo siete già e ad attivare la campanella in maniera tale da non perdervi i miei video detto questo continuiamo con il video siamo qui per parlare di soluzioni low cost per sopravvivere ad un soggiorno milanese se non avete visto il video precedente appunto vi faccio vedere quello che ho fatto io nella mia giornata intera a milano quindi le cose principali da vedere e diciamo anche il tour che ho fatto io potete seguire diciamo così la mia giornata attraverso il video in questo video invece vi faccio una lista delle sette cose da fare gratis a milano diciamo per coloro che amano viaggiare low cost e che non vogliono spendere troppo sono cose che ho trovato un po in giro per il web alcune delle esperienze le ho provate diciamo io sulla mia pelle diciamo così altre le ho lasciate un pochino da parte avevo soltanto una giornata disponibile appunto non ho potuto fare tutto cominciamo subito quindi con queste esperienze a zero budget quindi numero uno è il quartiere di Brera il quartiere del centro più autentico di Milano è lontano dalla affollata piazza d'uomo e quindi diciamo quello un pochino più caratteristico potete trovarci la pinacoteca diciamo le mostre sono a pagamento potete farvi comunque una passeggiatina sotto i portici che ci sono lì come ho fatto io e ammirare anche in maniera ovviamente gratuita il monumento a Napoleone fatto da Antoni Canova che è stato anche restaurato di recente da quello che mi risulta numero due è una passeggiata sui navigli e anche e ci aggiungo io anche sulla darsena questo quartiere è il cuore della vita notturna milanese io ci sono stata a metà pomeriggio quindi non era il momento giusto però comunque me lo sono voluto a pieno oltre comunque al famoso aperitivo milanese potete comunque semplicemente passeggiare rilassarvi lungo appunto questi corsi d'acqua e dare un'occhiata a negozietti e librerie che ci sono sulla vostra strada numero 3 scoprire la cultura underground a Macao questa è una di quelle cose che io non ho provato in prima persona ma penso che possa interessare almeno da alcuni di voi ed è il progetto Macao che ha avuto origine nel 2012 e che comunque promuove la cultura underground ed è un punto di ritrovo permanente e abituale sia per milanesi che turisti che sono amanti dell'arte e appunto di questa cultura underground numero 4 Parco Sempione è il più celebre parco milanese in cui è possibile trovare il proprio angolo di pace lontano dal trambusto cittadino in più vi segnalo che c'è la possibilità di entrare in maniera gratuita al castello sforzesco ad orari prestabiliti però quindi vi consiglio di controllare meglio il sito per sapere se ci sono quando potete andare e appunto farvi un'idea degli orari che hanno numero 5 immergersi nella vita notturna alle colonne di San Lorenzo anche in questo caso sono stata alle colonne di San Lorenzo ma non di notte non per un aperitivo diciamo così in ogni caso è consigliatissimo andarci perché è appunto il punto focale della vita notturna tra una dovuta e l'altra magari cercate comunque di ritagliarvi un piccolo lasso di tempo per ammirare sia le rodine romane che la basilica di San Lorenzo che incorniciano la piazza numero 6 ammirare le mostre fotografiche della galleria Carla Sozzani in questo posto trovate una fantastica galleria fotografica all'interno della quale ruotano una serie di mostre temporanee di grandi fotografi di fama internazionale numero 7 il Duomo ovviamente sapete che il Duomo è uno dei simboli di Milano ma se volete saltare tutta la cora di turisti che c'è per entrare al Duomo o per salire in mezzo alle buglie potete fare come ho fatto io di dirigervi verso la terrazza panoramica della Rinascente da qui potete godere di una vista esclusiva della chiesa, delle buglie, potete avvicinarvi un pochino di più alla madonnina e magari dare un'occhiata al grappa a tantistante è gratuito, non c'è moltissima gente e se volete potete anche prendervi qualcosa da bere appunto sulla terrazza spero che questo video unito anche all'altro che avete visto la settimana scorsa vi siano potuti piacere io vi lascio con il compito di mettermi un like se vi è piaciuto e magari anche di condividere questo video con i vostri amici se avete qualche suggerimento di cose gratis da fare a Milano potete lasciare un commento qui sotto vi ricordo che in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi nelle mie avventure un pochino in giro per l'Italia e anche per il mondo noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!